L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha terminato la collocazione di tutti i dirigenti scolastici. Sono state pubblicate le ultime reggenze dovute alle conferme tardive di alcuni pensionamenti e agli incarichi nominali assegnati negli ultimi giorni e le sedi per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici in riferimento alla procedura di reclutamento riservata. Renderlo noto l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio per la Direttrice Generale Anna Paola Sabattini. Questo importante momento segna un ulteriore e definitivo passo verso la preparazione e l'avvio di un anno scolastico sereno e tempestivamente organizzato, in linea con l'impegno costante degli uffici nel garantire la qualità e l'efficienza del sistema educativo regionale. Spiega la dirigente che questa fase costituisce l'ultimo tassello del processo d'assegnazione dei dirigenti portato avanti anche in questi giorni di ferragosto. Riguardo alle reggenze si tratta di un numero esiguo di soli ulteriori 11 dovute appunto a pensionamenti dei dirigenti scolastici o a distacchi presso ministeri o associazioni, mentre per le sedi che verranno occupate dai nuovi dirigenti dell'ultimo concorso riservato si tratta di 25 operazioni, quest'ultima che l'amministrazione conta di chiudere entro il 23 agosto e che vede le 25 istituzioni scolastiche coinvolte distribuite così, una sede in provincia di Rieti, una in provincia di Frosinone, quattro in provincia di Viterbo e 19 a Roma e provincia. Questa distribuzione è stata attentamente valutata, fa sapere sempre l'ufficio scolastico, per rispondere alle esigenze specifiche di ogni territorio garantendo copertura adeguata e un supporto efficace alle istituzioni scolastiche coinvolte.